Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze eccomi qui a fare un nuovissimo video tag creato da due ragazze fantastiche che hanno due canali meravigliosi allora, i due canali si chiamano Easybook e Sound of Gaia se andate nella loro pagina trovate un nuovissimo video tag appunto che si chiama Among of Books con vicino il nome del mese che hanno scelto loro loro hanno scelto luglio io adesso invece lo faccio per agosto ho avuto proprio una bellissima idea in pratica bisogna rispondere a otto domande sempre a tema super librosissimo e ovviamente dopo io lo metterò come video di risposta al loro canale quindi voi fatelo anche con me se vi va è commentato oppure inviatemi i vostri video di risposta allora cominciamo le frasi me le sono scritte ovviamente se no non me le ricordavo tutte precisamente allora quanti libri hai letto? allora stando alla libreria che ho sul sito di Enovi dopo vi lascio il link se volete andare a curiosare come volete voi allora in tutto ne ho letti 191 su 268 quindi ne ho ancora tantissimi da leggere però 191 mi sembra un buon risultato il libro più lungo e il libro più corto allora il libro più lungo secondo me non è perché è stato pesante a leggere ma proprio perché mi ci ha voluto un po' di tempo sarà anche perché ho avuto esami vari questo qui il terzo romanzo di Stieg Larsson non so se riuscite a vedere bene la regina dei castelli di carta eccolo questo qui mi è piaciuto tantissimo è una trilogia meravigliosa e Stieg Larsson secondo me è stato uno scrittore veramente fantastico ecco proprio in tutto 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 la storia vabbè è avvincente poi Lisbeth è il mio personaggio preferito è piena di intrecci di suspense la trama è proprio veramente ti lascia proprio col fiato sospeso ecco non vedi l'ora di finirlo per sapere come andava come andava a finire proprio la storia e questo vi parlo del primo poi il secondo è stato il top e il terzo poi veramente secondo me il terzo è stato mi sa il miglior di tutti e tre proprio perché ha dato una conclusione veramente giusta e adatta secondo me io non vi dico niente perché non voglio fare spoiler quindi chi non ha letto la trilogia uomini che vadano le donne di Stieg Larsson ve la straconsiglio alla grande proprio chiama thriller, sotterfugi, azione, scene intriganti ecco io ve lo consiglio proprio poi il libro più corto che ho letto è quello del piccolo principe è veramente ricco 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 di insegnamenti è una miniera d'oro a me ha colpito tantissimo perché con delle parole molto semplici uno stile molto veramente scorrevole proprio una trama molto tranquilla però in questo libro che è corto e poche pagine non è che proprio chissà che è veramente denso denso, denso di insegnamenti a me mi ha colpito molto è da un libro che porto nel cuore infatti lo ce l'ho anche in pdf sul computer ogni tanto mi piace rileggerlo perché proprio con tranquillità con una piacevolezza lo leggi che è veramente una meraviglia quindi ve lo consiglio che non lo avesse letto dovete leggere almeno una volta nella vita questo libro lo ho letto veramente perché ne vale veramente tanto tanto la pena la copertina più bella quindi se la copertina più bella io stavo in crisi perché ce ne ho due adesso ve le faccio vedere allora una è questa Harry Potter e la magia del film che è un libro meraviglioso per poi passare al top dei libri stupendi di Harry Potter che è questo qui Harry Potter dalla pagina lo schermo cioè la copertina è bellissima sarà perché c'è Hogwarts poi c'è scritto Harry Potter a lettere d'oro un libro meraviglioso è pieno di novità sul backstage sul making of degli otto film e questa io la diciamo tra questa qui e la magia del film opto per questa perché mi ha colpito bellissimissimissima invece quella dei sette libri di Harry mi ha piaciuto molto molto la copertina del quinto libro ecco ho queste due copertine nel cuore ho il personaggio protagonista o meno se non è proprio il protagonista principale che più vi ha colpiti allora io sempre per Harry forever proprio nel cuore per sempre mia infanzia è stata e lo sarà sempre come punto riferimento per me il mio personaggio preferito è Hermione sarà perché ama leggere sarà perché è studiosa sarà perché io mi ci rispecchio abbastanza e non perché sono proprio studiosissimissima però me la cavicchio abbastanza è il mio personaggio preferito fin da come è apparsa nella prima volta nel libro è veramente stupenda fantastica poi mi piace perché è intelligente è forte leale non ha mai abbandonato Harry e poi adoro la sua storia d'amore con Ron vi dico io sono una super romanticona ma di quelle proprio super 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 che adoro le storie alle teofine le amo proprio tanto 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 anche al cinema non solo sui libri però io adoro la sua storia con Ron è bellissima io all'inizio pensavo che lei si mettesse con Harry invece sono contenta di come Joan io lo chiamo Zia Joe perché ormai è zia sono contenta di come Zia Joe abbia scelto il finale bello bello veramente sono contenta che dopo scelto Ron sono proprio contenta una storia romantica bellissima ecco io vi dico romanticissimissimissima al massimo il personaggio che vi ha lasciato l'amore in bocca il personaggio che mi ha lasciato l'amore in bocca è Rossello Ara di Via Colvento perché l'ho finito di leggere pochissime settimane fa al mare mi ha lasciato l'amore in bocca perché per carità ha un carattere forte ha aiutato la famiglia nei momenti difficilissimi della guerra però io nel fatto nell'ambito dell'amore io avrei preferito che non trattasse così male il povero generale Butler cioè mamma mia poverino si vedeva che era innamorato cotto stracotto e lesso quindi ecco io speravo che lei gli desse una possibilità invece lui ha cercato anche se non era anche se lei non era proprio innamoratissima l'ha sposato uguale ok però si vedeva che non c'era amore da parte di lei invece lui era proprio stracotto mi è dispiaciuto per come l'ha trattato dopo che alla fine giustamente è andato lei si dice domani un altro giorno però mi è dispiaciuto il finale così speravo ci fosse un letto fine perché ne ha patite tante i sofferenze Rossella con la guerra la morte dei genitori voglio dire ha sofferto parecchio speravo non ci fosse un letto fine invece no però vabbè mi ha lasciato un po' ecco l'amaro in bocca la migliore ambientazione beh come vi dico per me la migliore ambientazione letteraria cinematografica è Hogwarts e tutti i suoi intorni Ozmade Priveted Drive tutte le ambientazioni che riguardano aerei per me sono le più belle sia in ambito del libro sia in ambito cinematografico perché nel libro stupendo J.K. Rowling ha descritto questi luoghi in una maniera talmente stupenda in una maniera perfetta descrittiva ricca e densa di particolari che sembrava proprio di stare lì poi vedendo i film è stato meraviglioso perché proprio finalmente vedi la vera trasposizione un conto è leggerlo sul libro un conto però è vederlo con i propri occhi e secondo me i vari registi i vari registi di tutti i film hanno fatto uno splendido lavoro sia per gli effetti scenografici sia per gli effetti speciali c'è veramente nulla da dire sono stati bravissimi soprattutto chi ha curato gli effetti speciali credete fa un lavoro veramente veramente tosto però hanno fatto un lavoro meraviglioso e per me la migliore ambientazione rimane e sarà sempre Hogwarts la scuola mi piacerebbe tantissimo tantissimo poi il mio sogno è andare a Londra a visitare gli studios gli Avesten Studios di R il mio sogno è quello conto di di poterlo realizzare entro breve perché veramente un sogno per la serie sveniamo cadiamo per terra così che proprio sarebbe una cosa meravigliosissima ecco breve confronto con la trasposizione cinematografica come l'ho detto appunto confronto io gli do 10 più 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 perché hanno fatto una scenografia stupenda meravigliosa come se tu stessi lì mentre vedi il film è come se tu stessi lì con loro è una cosa stupenda ho il libro che avresti voluto leggere ma non avete più letto è un sacco di tempo che mi dicono devo comprare 1984 di George Orwell però ancora non lo compro ma è per cattivare ma proprio mi scordo oggi sono libri che mi attirano quindi vado totalmente dalla parte opposta di dove sta quel povero libro però ecco questo è un libro che desidero leggere spero di comprare quindi spero di comprare più presto quindi non me lo consigliate sì ma se volete lasciatemi i commenti dei consigli o dei pareri ecco queste sono le 8 domande io dopo ovviamente ve le scrivo sotto sulla descrizione quindi sono divertita da farlo questo video tag riguarda il mese di agosto adesso voglio parlarvi oltre a questo video tag un argomento che ormai è recentissimo voglio parlarvi delle book reader voi siete a favore oppure no dopo scrivetemelo sui commenti oppure se volete lasciarmi dei video di risposta perché? perché io ho chiesto consiglio tanto tempo fa su un gruppo di facebook che si chiama guardare di quante pagine ho un libro prima di cominciare a leggerlo che io ve lo consiglio perché una pagina stupenda dove trovate sempre persone gentilissime disponibili a darvi consigli e pareri su qualsiasi tipo su un libro oppure su appunto se comprare un ebook reader ecco io ero indecisa perché volevo sapere più o meno i prezzi perché voglio dire da quello che ho capito il kindle è quello 99 euro la base dico venduto da Amazon oppure c'è quello del Sony allora io siccome amante della carta proprio del libro cartaccio che non ce la faccio a separarmene ho pensato ecco grazie sempre alla mia splendida mammina ho pensato con lei questo se almeno posso risparmiare cioè posso far risparmiare a mia madre perché è mia madre che mi ricompra i libri se posso far risparmiare a mamma qualche soldino non è affatto male perché? perché i libri cioè i prezzi dei libri sono veramente allucinanti secondo me appena escono zah 19-18 ma c'è tanto porca paletta ma io dico no perché io capisco la traduzione capisco il lavoro che c'è dietro lo so perché io studio traduzione lingua e traduzione dell'università so quello che significa tradurre e non è facile per niente perché 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 devi stare attento alle mille sfaccettature che può avere una semplice frase in quel contesto come mi è andato il libro ecco quindi per carità però 19 ecco perché quando l'estate ci sono gli sconti 25% 15% le occhi così sono proprio a palla con i cuori perché finalmente oh mi posso comprare i libri un libro che desideravo tanto tempo che sta scontato e sono iper felicissima allora ho detto proviamo vediamo su ebay se c'è qualcosa ho visto un negozio che vendeva un ebook reader a 70 euro della marca rockchip che vedo che è molto famosa in Francia adesso ve lo faccio vedere lo accendo ve lo faccio vedere che legge tutti i tipi di formati di ebook quindi ebook pdf text mobi questi qua li legge tutti poi posso vedere anche qualche filmato oppure sentire anche un po' di musica musica ecco lo schermo è sì si illumina però non affatica gli occhi questo sono buone perché porto gli occhiali non posso affaticare più tanto i miei i poveri occhini anzi occhi ma occhini non mi piacciono ma gli occhi allora ve lo faccio vedere aspettate che lo accendo un attimo eccolo qui eccolo qui lo faccio aspettate che se no si riflette eccolo così non è touch come potete vedere questo è il menu se io vado su testo ho messo una quarantina di libri ecco questa è la lista e ovviamente l'ho convertiti tutti con il programma calibre che è un programma gratuito che io lo sposerei seduta stante perché perché i pdf sugli ebook reader secondo me sono deleteri perché perché le parole escono fuori dallo schermo e non è possibile ogni volta stattendo premi premi l'ho convertiti tutti in ebook ed è la fine del mondo perché rientrano precisamente adesso vi faccio vedere qui trovate tanti libri ho messo il ciclo di shadow hunters la trilogia di bartimeus che è quella che stavo leggendo poi c'è kirsten gear scusate green red e blu poi il diario del vampiro di lisa james smith ecco vi faccio vedere bartimeus è arrivata pagina 8 eccolo qui ecco vedete sono precisamente dentro i margini 7 pollici però rientrano perfettamente ecco ed è una grandissima comodità ecco io prima no no per carità le book no io amerò sempre i picattaggi e ovviamente continuerò a comprarli soprattutto le edizioni economiche quelle forever ma no continuo a comprarli anche perché adesso ho intenzione di comprare appena esce il decimo libro delle cronache del ghiaccio del fuoco di george martin sto al primo libro però mi sta piacendo talmente tanto che sono sicura che mi piaceranno tutti i libri infatti ho comprato i primi 9 non ho comprato il decimo non dicesimo perché sono in edizione ancora che costa tanto 19 e 16 year quindi adesso quando uscirà edizione best seller della mondatori di tutti i due libri li compro quindi io il cartaggio lo compro sempre anche il prossimo libro di jk rowling che uscirà a gennaio più o meno casual vacancy che è un stile giallo non vedo l'ora di leggere perché finalmente jk rowling si stacca da harry che secondo me ha fatto bene perché mi sarebbe piaciuto leggere qualcosa di harry però secondo me ha fatto bene un po' a discostarsi del genere fantasy adesso lei si butta sul giallo quindi vediamo com'è non vedo l'ora già di leggerlo ah un altro libro che ho intenzione di comprare pure il quinto libro di moony witcher finalmente è uscito il quinto libro di nina la bambina la sesta luna finalmente dopo tanti tantissimi anni esce il quinto libro che si chiama nina e il numero aureo di questa cosa sono iper felicissima perché nina è stata la mia infanzia proprio veramente poi se volete vedere anche i video tag che ho fatto sui cinque libri della mia infanzia i libri preferiti le letture di agosto e la mia libreria ritrovate nel mio canale quindi se non l'avete ancora visti se vi va guardateli ovviamente se vi va e quindi mi sono detta io lo compro cioè mamma me lo compra ecco però sono soddisfattissima perché almeno porti in viaggio è comodo ce ne vanno un miliardo questa è una capacità di 4 giga ce ne vanno tantissimissimissimissim prima me ci sono solo 39 quindi a voglia e quindi proviamo a fare tutte e due tanto per me i libri cartaggi non moriranno mai possono andare di pari passo con il formato delle book reader allora mi sono detta compriamolo sono soddisfattissima quindi io per me e book reader si voi fatemi sapere quale modello avete se vi trovate bene se siete soddisfatti oppure se non siete per niente d'accordo fatemi sapere con un commento con un video io adoro leggere i commenti ogni volta che trovo la posta del canale mio di youtube di questo canale con vari commenti sono contentissima perché si imparano tante cose ognuno la pensa in maniera diversa si accettano tanti punti di vista critiche costruttive per carità quello sempre sempre con educazione per carità anche quello la buona educazione ce la vuole sempre e io ecco vi ringrazio avete ascoltato questo immenso monologo però vi dico il video tag è stupendo io ringrazio easy book e sound of gaia sui ragazzi fantastici hanno i miei canali stupendi ringrazio per aver creato questo nuovo video tag che io subito ho preso la palla al basso e l'ho voluto fare subito stamattina è uscito ieri i video tag l'hanno messo ieri sul loro canale è uscito stamattina e se lo faccio pure io io vi ringrazio vi aspetto con tanti nuovi commenti e seguitemi perché presto ci sarà la mia quarta recensione e vi ringrazio ecco grazie a tutti per avermi seguito a presto ciao